Fantastico webinar in fase sperimentale, come evitare la trappola delle estensioni di linea, quindi vendere di più comprendendo davvero il potere della focalizzazione. Allora, durante questo webinar ragazzi lo scopo è cercare di non spiegarvi proprio la base, base concettuale che magari avete già intuito, avete conosciuto leggendo gli scritti di Orris, magari avete letto Focus, ma è darvi qualche, sicuramente riprendere le basi, ma spiegarvele in maniera leggermente più dettagliata, leggermente più analitica in modo che possiate capire le differenze e capire da dove arrivano gli errori di percezione rispetto al concetto di estensione di linea, perché le estensioni di linea ovviamente non sono tutte uguali. Allora, partiamo dal primo, ecco qua, vi faccio vedere questo slide che ovviamente manifesta una delle estensioni di linea più ovvie, che è quella della Coca-Cola, nel senso che perché le varie Coca-Cola Life, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light sono da considerarsi un'estensione di linea e sono dannose in termini di brand per la Coca-Cola, perché Coca-Cola ha un suo significato che è la cola originale, quindi dovrebbe essere la cola, infatti negli Stati Uniti si chiama The Real Thing, cioè quella originale. Allora, nel momento in cui tu cominci a creare, a lanciare la Coca-Life, la Coca-Lite o la Coca-Zero, stai dicendo delle cose che danneggiano il brand originale, nel senso che se io lancio la Coca-Zero o la Coca-Lite, che sono uno l'estensione di linea di quell'altro, poi è una cosa folle, veramente una follia, però è il messaggio che io sto lanciando, cioè la Coca-Zero ha zero calorie, quindi se io comincio a buttarla fuori sto confessando che sto reagendo a una problematica del mercato, cioè sto confessando una debolezza del mio prodotto originale, cioè la Coca-Cola fa male, fa ingrassare, quindi ho bisogno della Coca-Cola Light e della Coca-Cola Zero. Addirittura qui abbiamo un doppio caso di estensione di linea, perché quando lanciarono la Diet Coke o Coca-Cola Light è arrivata in Italia, con quel tipo di colore argentato, quel tipo di brand, il concetto di light che è associato per esempio al cibo light, non veniva acquistata, al di là del danno delle estensioni di linea, non veniva acquistata dagli uomini, perché il concetto di light viene percepito come qualcosa per le donne, quindi hanno rifatto il brand per cercare di conquistare anche il pubblico maschile, Coca-Cola Zero, perché Zero è più maschio e il nero è più figo dell'argentato che veniva percepito come qualcosa di femminile. Quindi questo è un caso di estensione di linea, perché? Perché danneggia il brand originale, cioè Coca Zero e Coca Light dicono la Coca-Cola normale fa ingrassare. La Coca-Life l'ultima uscita, quindi con la vena salutista, quindi cercando di inseguire coloro che hanno paura che un certo tipo di zuccheri faccia male, bla 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 bla, è allo stesso tempo una puttanata, perché che messaggio lancia? Lancia il messaggio Coca-Cola Life, quindi che non fa male, che fa bene, quindi la Coca-Cola normale ovviamente è death, cioè è morte, quindi farà male se c'è bisogno di avere una Coca-Cola e definirla Life. E come quando io chiamo un Papa e dico questo è il Papa buono, e che cosa sto dicendo di tutti gli altri Papi ovviamente? Magari non è vero, però nella testa delle persone se uno devo specificare che sia buono, magari gli altri ovviamente per contrapposizione non lo sono, e quindi questo è il dettaglio. Quindi la Coca-Cola in questo caso sicuramente sta facendo estensione di linea, lo sta facendo invece la Coca-Cola Company per le altre bevande gassate della sua linea, nel senso che fortunatamente la Coca-Cola non ha mai fatto Coca-Cola Orange, ha fatto la Fanta, quindi come vedete fanno delle cose giuste e delle cose sbagliate tutto all'interno della stessa azienda, quindi non è che ha fatto aranciata cola, aranciata Coca-Cola, è uscita la Fanta, non fecero la gassosa Coca-Cola, hanno fatto la Sprite ovviamente, quindi ci sono sicuramente delle cose buone e poi ci sono anche delle cose non buone. Nel caso specifico sulla Coca-Cola queste sono estensioni di linea che sono tutte sbagliate ovviamente. Orris aveva spiegato anche la soluzione a questo dilemma, a questo problema e se per chi di voi non l'avesse sentito, non l'avesse letto ve la rispiego qui al volo, nel senso che comunque il mercato delle bevande gassate e zuccherate è costretto ad andare in crisi, quindi bisognerebbe anticipare, Coca-Cola dovrebbe anticipare questa mossa, togliere Coca-Life, Coca-Lite, Coca-Zero e riprendere, risaltare in pista con il concetto di The Real Thing, cioè fare direttamente la Coca-Cola, quindi un'unica Coca, quindi un'unica Coca-Cola che è l'originale a zero calorie, quindi trasformare l'equivalente di quella che è la Coca-Cola Zero oggi, metterla, farla diventare la Coca-Cola e rendere quell'unico prodotto Coca-Cola l'originale a zero calorie e basta, l'unica linea perché tanto le bevande gassate dolcificate come la Coca-Cola sono costrette ovviamente ad andare in crisi, ok? E quindi questa è l'unica strada che dovrebbero perseguire, quindi fare un coraggioso passo in avanti, ritirare la Coca-Cola zuccherata dal mercato e fare in modo che le tre estensioni di linea più la Coca-Cola originale oggi diventino un unico prodotto, quindi Coca-Cola basta, l'originale zero calorie, quindi rivoluzionare completamente, essere così coraggiosi da rivoluzionare completamente la categoria. Dall'altro canto abbiamo per esempio il Gatorade Organic, che da noi organi che si traduce con biologico, non ho visto se in Italia è già arrivato o come lo tradurranno, però c'è questa nuova formula che è il Gatorade Organico, ok? E perché questo è un problema? Ne parlavamo l'altro giorno, perché se tu dici ovviamente di un Gatorade, stai lanciando il Gatorade e dici che questa bevanda è biologica, ovviamente stai confessando che il il Gatorade normale non è biologico, quindi mandi la gente in tilt, perché la gente dice cazzo vorrei bere questo Gatorade biologico, però costa troppo, ovviamente costa di più, ero abituato a bere il Gatorade normale, ma mi sembra che ci abbia dentro tanta roba chimica, vaffanculo mi bevo un'aranciata, ok? Oppure vaffanculo mi bevo un succo di frutta, o vaffanculo bevo l'acqua, o mi bevo una Monster, mi bevo una Red Bull e via così, ok? Quindi questo è il grosso del problema ragazzi, quindi questa è sicuramente un'estensione di linea stupida, grave e importante. Quindi il concetto ragazzi è che certamente per aiutarvi a capire, si possono nel tempo aggiungere come test un gusto o una variante della domanda, della bevanda originale o del prodotto originale, ok? Non è detto che non si possa fare mai, ok? In questi casi non si può, ok? Cioè perché qua non stanno cambiando il gusto, qui stanno proprio cambiando qualcosa, una caratteristica che in realtà va a danneggiare, ok? Il posizionamento del brand. Qui però Gatorade non si vede, sembra un po' come la Fanta per l'Oracola, no? No, 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 è proprio, si vede, si vede assolutamente Fabio, si vede come, è proprio il Gatorade biologico, ok? Non è un altro brand. Allora, quindi si possono aggiungere come test un gusto o una variante, certamente, se non contrastano troppo con il posizionamento originale, in questo caso il Gatorade biologico contrasta con il posizionamento originale. Allora, aspetta, allora, scusa Frank, quindi anche a Pepsi scopiazza la coca in tutte queste stupide estensioni dovrebbe fare lo stesso, anzi dovrebbe avere il coraggio di farlo prima? Ilaria assolutamente sì, dovrebbe farlo assolutamente prima, certo. Quindi, se non contrastano troppo con il posizionamento originale, certamente si può fare qualche test, non dico che vadano bene, non dico che non stanno nemmeno entrando nel concetto che sia un'estensione di no meno, dico solo quando si può testare una piccola variante di gusto o cosa del genere, ok? Ma la Coca Cola ha un calo di vendite? Alice sì che ha un calo di vendite, cioè voi la dovete smettere, dopo ve lo spiego, di pensare che quello che fanno le grandi aziende siano cose intelligenti, dovete uscire da questo paradigma che i manageroni delle grandi aziende sappiano che cazzo stanno facendo, non lo sanno, ok? Dovete guardare i dati, dovete guardare i fatturati, dovete guardare i bilanci, c'è un intero libro di 500 pagine, si chiama Focus, ve lo studiate, vedete che i grandi menaggeroni delle grandi aziende fanno delle minchiate, ok? Quindi non continuate a chiedermi, certo, se no non te lo presenterei come estensione di linea, non c'è nessuna estensione di linea, al mondo per quanto lo facciano le grandi aziende voi abbiate questo senso di inferiorità, ma loro hanno i cervelloni, loro sapranno quello che stanno facendo, che in realtà abbia un senso, porti a aumenti di fatturato, fine, ok? Quindi, due, non si infilano, vado un po' avanti, ragazzi non continuate a farmi domande perché se no ci sentiamo fuori, ok? Dopo un po' le guarderò. Allora, non si infilano stupidamente dentro la concorrenza, cioè tu puoi lanciare una variante del tuo prodotto certamente, se però quella variante non è già rappresentata da un brand più forte perché altrimenti diventi un imitatore, ok? Quindi c'è qualcuno che già davanti a te è riconosciuto per essere la bevanda in quel settore, quindi ci sarà qualche bevanda esotonica, biologica nel mondo, adesso io non sto molto seguendo, ma di sicuro chiamarla Gatorade non ha un grande senso, quindi devi creare un brand a parte, non devi chiamarlo Gatorade che danneggia inoltre, contasta il tuo posizionamento originale e spiega che la tua bevanda originale in realtà è piena di schifezze chimiche. Solo se il brand è consolidato, ok? Quindi puoi provare una variante solo quando il brand è assolutamente forte, assolutamente consolidato. Se le vendite stanno crescendo, quindi questo è uno dei grandi errori, quindi se non contrastano troppo con il posizionamento originale, segnatevi queste cose, quindi si possono aggiungere come test un gusto, una variante nei vari prodotti, se non contrastano troppo con il posizionamento originale, se si infilano stupidamente dietro alla concorrenza, solo se il brand è consolidato e se le vendite stanno crescendo, quindi se stai andando bene, la maggior parte delle aziende invece lancia varianti, gusti diversi, quindi variazioni del prodotto di base, quando le vendite calano, stagnano, perché dicono che se lancia un'altra variante la gente lo vorrà provare, proveranno di più, ok? È la stessa cazzata che fa McDonald's che costantemente fa il lancio a tempo del nuovo panino strano, è l'Aragosta, è il panino vegetariano, non attiri il nuovo pubblico facendo questa roba qua, ok? Stai semplicemente creando caos produttivo, ti mangi margini, crei confusione a linee di produzione, sprechi un sacco di soldi, devi creare macchinari, linee di produzione, cioè devi fare mille cose, stai semplicemente disastrando l'azienda, ok? Quindi i test, i nuovi gusti e varianti si fanno quando i prodotti e quando le vendite vanno bene, non come soluzione al fatto che le vendite stanno andando male, se le vendite stanno andando male vuol dire che sei defocalizzato, il tuo brand non funziona, quindi devi stringere il focus, non aumentare i gusti, non aumentare le varianti, quindi questa è una cosa che vi dovete segnare. Ancora, se vogliamo andare avanti, quindi abbiamo detto mai come rimedio un calo delle vendite, ok? Mai. Quindi il concetto di base è lo fanno loro, buttiamoci anche noi, è vietato, questo è quello che fanno la maggior parte dei manager ignoranti nelle aziende nel mondo, in Italia in particolare ed è veramente un problema, cioè vedono che un competitor si butta a fare qualcosa di stupido e loro non avendo studiato branding, non avendo studiato posizionamento o avendo studiato scemenze all'università, ad esempio tu fai i master in master business administration, ci sono i corsi di branding e quello che ti spiegano è, senza criterio, perché loro non lo studiano, quindi io non so dove studia questa gente branding, non ne ho idea, però il concetto di base che voi leggete è esplorare tutte le possibili nicchie e varianti nel quale il brand può estendere, questi sono proprio i programmi universitari, dove il brand può estendere il suo raggio di azione, facendo poi esempio, tutta una serie di esempi scemi che non si applicano nel mondo reale, soprattutto non si applicano nella realtà delle PM italiane e durante il prosieguo del webinar vi spiego perché, quindi lo fanno anche loro, buttiamoci anche noi, è vietato, devi sapere che cosa stai facendo. Uno dei classici esempi era, per chi se lo ricorda per esempio, la gente, vi ricordate il casino che è successo qualche tempo fa sui social con Melegatti che avevano fatto questo annuncio era sulla loro pagina su Facebook, quindi era il tuo prossimo come te stesso, basta di scrivere l'altro sesso, si era scatenato un casino in realtà perché, ah allora siete omofobici, tutte queste cose qua, in realtà il PM non è affatto, se questo annuncio sia una puttanata o meno, non mi intera, la gente ci ha fatto sopra un casino che a metà bastava, ma non è questo il problema, il problema di queste persone è che Melegatti significa Pandoro, cioè Melegatti è il Pandoro, loro sono, cosa significa Melegatti nella testa delle persone è il Pandoro, quindi tu di base non dovresti fare i cornetti da colazione, perché il problema è il fatto che tu faccia i cornetti da colazione, non che tu abbia fatto una pubblicità stupida, nel senso che non significa che Melegatti se vuole lanciarsi nel mercato, cioè uscire dal mercato delle ricorrenze, quindi Natale, Pasqua e non voglia fare dei prodotti non possa farli, ci mancherebbe e che non li devi chiamare con una parola che è Melegatti che significa Pandoro, al più te la posso stiracchiare perché fate anche i panettoni, voglio dirti dolce da ricorrenza tradizionale veronese, va bene te la allargo un pochino, di base significa Pandoro o meglio dovrebbe significare Pandoro, dovrebbero focalizzarsi meglio e ne ho parlato più e più volte di questa cosa, però facciamo finta che ok significa Pandoro e panettone, ok Melegatti significa Pandoro e panettone, non può significare cornetto da colazione, perché loro hanno fatto questa scemenza? Perché, perché io non so chi chi ha il manager l'ha detto, però ha visto che la Bauli l'ha fatto, hanno cominciato ad entrare sugli scaffali con questa cosa, loro hanno detto anche noi, anche noi non perdiamo terreno, presto, presto, anche noi dobbiamo fare i cornetti, allora uno non è detto perché magari state creando, avete già un'azienda che in sofferenza state creando cazzoline, produzione e tutte queste cose per vendere quattro cornetti di merda, ok? Ci ho detto se proprio volete entrare in quel settore, entrate creando un brand apposito che possa, scalzando il posizionamento, quindi stando attenti a non entrare in contrasto, a non copiare i cornetti da colazione che già esistono nel mercato, trovare una linea di cornetti che abbia un senso, che sia nuova, che possa creare una mini sottocategoria e che possa riferirsi a un target specifico e ad attirarlo. Quindi la gente che mi fa impazzire, allora nessuno può fare niente, no, voi potete fare tutti i prodotti che volete, basta che create un brand apposito che dica quella cosa lì nella testa delle persone. Se tu fai i cornetti da colazione con il nome Menegatti stai facendo una cosa da deficiente. Ah, tra l'altro per informazione, ve lo dico così magari vi passa questa roba. Tutti gli studi dimostrano che lanciare un brand da zero, piuttosto che usare il nome stupido di un'altra azienda che è legato a un'altra cosa, ha gli stessi costi in termini di lancio, in termini di advertising, solo che uno nel medio periodo, cioè fare le cose correttamente, lancia i dividendi, l'altro invece rischia di non far decolare, perché se io penso a vado a comprarmi i cornetti, di sicuro non penso al brand Menegatti, e in più rischia di danneggiare il brand Menegatti stesso nei suoi prodotti corpi. Quindi questa è l'idiozia. Quindi voi la dovete smettere con questa cosa, perché io vi spiego qual è, il file baccato nella vostra testa che spiega che fare queste cose sia una cosa intelligente. Ah, il mio brand è molto conosciuto, vuol dire nella testa delle persone qualità e cortesia a lunga tradizione e quindi lo posso attaccare, lo ingo***o comunque prodotto, mi venga in mente che respiri che possa entrare nel raggio di azione ipotetico di quello che posso fare, perché? Perché così se il prodotto è già conosciuto la gente si fida. E questo, allora voi nella vostra c***o avete questa idea qua, prima ve la togliete questa minchiata, prima fate, finitela, ok? Non si fa col... chi c***o ha imparato il marketing? Perché è quello che mi fa imparare. Cioè come vi viene in mente di fare i cornetti per la colazione Melegatti? Se Melegatti vuol dire Pandoro, ok? Come vi è venuta in mente sta cosa? Ok? Cioè il problema è questo lavoro qua, ok? Il problema è questo lavoro qua. Quindi quando voi capite che un brand significa una cosa e non... significa una cosa esatta, se ha un significato, non significa grande tradizione, grande corte, significa Pandoro, non significa la gente se pensa che noi facciamo i Pandori buoni, allora penserà che facciamo anche i cornetti a colazione buoni. No, penserà al contrario, dice voi siete specializzati in questo, in questo, questo magari non lo sapete fare, quindi stai creando un danno duplice, perché la gente pensa guarda questi sono defocalizzati, adesso fanno male sia i cornetti e sia i pandori, oppure semplicemente dice sì vabbè belli i cornetti, mele gatti, però questi sanno fare i pandori che c***o ne hanno mai saputo loro di cornetti, quindi c***o capirò sto concetto qua. Poi se no Frank Sinca dice le parolate, sì io parlo rasoterra, perché? Perché se no la gente non capisce un c***o, allora io non lo so all'università che cosa spiegano sti baroni dell'MBA, io cerco di spiegare le cose così perché mi sembra che tutte le volte parlo con dei deficienti che non capiscono l'ovvio, spiegherò l'ovvio allora, ok? Allora bene che la gente mi paga per spiegare l'ovvio, almeno non massacrano le aziende, perché se no ti metti dentro sti c***o di laureati in marketing e sbragano le aziende, allora magari io che spiego con due l'affanculo si capirà, io spero che si capisca quello che dico, perché a un certo momento mi viene un ictus nervoso, ok? E mi esplode una vena e andiamo avanti così. Allora andiamo avanti, spero che si sia capito questo concetto. Quindi le due persone che non capiscono il concetto dell'estensione di linea, ci sono due persone che non capiscono il concetto dell'estensione di linea, ok? Allora i primi sono i deficienti, cioè purtroppo c'è una categoria di persone molto vasta che il concetto dell'estensione di linea proprio non lo capirà mai, non lo capirà mai perché... ma sul serio non è che voglio essere offensivo, è nel senso che ha il cervello che non gli funziona, cioè sono le persone che ragionano per stereotipi, cioè se lo fanno le grandi aziende allora che ne sai tu, allora vuol dire che è una cosa buona, guarda cosa fa Coca Cola che fa Coca Cola a zero, allora anche io nella mia azienda faccio l'estensione di linea, cioè il problema è che tu non devi ragionare se lo fanno le grandi aziende, dovresti usare l'informazione intelligente, cioè se lo sta facendo la grande azienda questa cosa ha un senso, questa cosa funziona, questa cosa gli sta portando un aumento di fatturato, di margini, di utili, cioè nel senso questa cosa dovresti guardare i bilanci, focus, un libro straordinario ragazzi, perché analizza tutto, non è un opinionista del marketing, spiega le cose con i bilanci alla mano, quindi tutta questa gente che non capisce è perché tendenzialmente tende a citare, cosa fa? No l'estensione di linea funziona, ma se voi gli chiedete perché fateci caso, io ve la spiego a terra a terra, chiedete alle persone convinte che l'estensione di linea sono una cosa buona, chiedetegli ma perché secondo te è una cosa buona, questi stupidi vi rispondono perché Tizio, Caio e Sempronio, grande azienda, lo fanno, non vi dicono se loro lo fanno e funziona, cioè per loro questa cosa è una cosa automatica, cioè se loro lo fanno non saranno mica così c***o, una cosa che non funziona, sono una grande azienda, loro hanno i cervelloni, guardano i bilanci, fanno gli studi, le statistiche di mercato, tutte queste cose che non vogliono dire un cazzo, la risposta è no, non lo fanno, ok? Nel senso che loro, l'unica cosa che sanno fare è quando vedono una contrazione, un caldo alle vendite o semplicemente vogliono aumentare per gli stakeholder il valore azionale e quant'altro, lanciano un nuovo prodotto, cioè è da manuale, non conta questa cosa, abbia un senso, non abbia un senso, si fa così, cioè a scuola gli insegnano così, loro fanno così, ok? Come si fa a guadagnare di più? Lanci un prodotto nuovo, kit è morto, funziona così, quindi questa gente, quando voi parlate con questi idioti, questi idioti hanno questa faccia tendenzialmente e vi spiegano che le estensioni linea vanno fatte, non vi spiegano scientificamente in realtà perché, ok? Perché la grande azienda fa l'estensione di linea, ok? Oppure c'è qualche... che per esempio, eccolo qua, vedete, questo signore si chiama David Acker, questo mi verrebbero delle offese ma vorrei tenere il webinar leggermente più abbottonato, è un tizio che ha cercato di basare tutta la sua carriera spiegando che le estensioni di linea sono un bene, quindi spiegando i brand, il cappello, tutta una serie di minchiate che non stanno nel cielo e in terra. Ha basato la sua carriera cercando di contrastare le teorie di Horace e di Jack Trout sul posizionamento per farsi un nome, ok? In maniera parassitaria. Il problema è che tutti gli esempi di estensioni di linea che funzionano, citati da questo signore, non sono esempi di estensioni di linea che funzionano, sono esempi di focalizzazione, ok? E adesso ve lo dimostro, ve lo faccio vedere, ok? Quindi durante questo webinar vi mostro gli esempi che porta a lui come esempio di focalizzazione per farvi capire in realtà che questo non capisce nemmeno di che cazzo sta parlando. Poi che non ci arrivi, ok? O che lo faccia apposta, io non lo so, ok? Però... vediamo, vediamo, ok? Allora, quindi un concetto importante che vi voglio trasmettere ragazzi è questo concetto del family brand, ok? Family brand significa che ci sono alcune aziende che si possono permettere di costruire dei family brand, la maggior parte no, ok? Quindi David Hecker e i profeti delle estensioni di linea di... in realtà sono degli stupidi, perché sono proprio ignoranti, cioè che portano il concetto di family brand come se fosse l'esempio vincente del fatto che sia possibile fare estensioni di linea. Quindi cercano di applicare un concetto che funziona solo per alcune organizzazioni che si possono permettere un family brand focalizzato invece e cercano di portarlo a un'azienda che non può permettersi di fare questa cosa. Quindi all'università quello che non ti spiegano è che prendono... cioè il loro errore concettuale, che loro prendono alcuni macro esempi da family brand che vi mostrerò io adesso e li usano per dire, vedi, se lo fanno loro lo puoi usare... lo puoi usare anche tu, ok? Quindi lo puoi usare anche tu. Allora, facciamo qualche esempio. Allora, questa è l'Apple, vedete? Allora, l'Apple è sicuramente l'esempio di un... quello che... è un'azienda che può creare una serie di family brand, un family brand, ok? Qui vedete vi ho messo tutta la serie di prodotti che fanno, alcuni sono buoni ovviamente, alcuni no, quindi anche l'Apple ha fatto cose buone, cose gregie, le cose buone di base le ha fatte finché non è morto Jobs e la sua eredità continua a tenerli a gala all'azienda, da lì in avanti hanno cominciato a lanciare tutta una serie di estensioni in linea. Vi ricordo che Jobs, quando tornò all'interno di Apple, passò i primi sette anni dell'azienda a ridurre la gamma dei prodotti da più di 40 a 4, ok? Quindi aver rifocalizzato l'azienda. Poi mano a mano che lui è andato via, sono tornati a lanciare un po' di tutto, ok? Allora, sicuramente c'è una gamma, per esempio, di prodotti, family brand della famiglia i, che sono brand diversi, cioè l'iPad è un brand, l'iPhone è un brand, ok? L'iPod è un brand, iOS è un brand, perché il sistema operativo a sé ovviamente va all'interno di questi dispositivi. Questo è un family brand, adesso vi spiego perché si può fare questa cosa e non stiamo parlando di estensione di linea, quindi chi dice che l'Apple fa estensione di linea, su questa cosa dice una cazzata, poi è vero che lo fa da altre parti, nel senso che se io faccio l'iPod va bene, è un problema se faccio come stanno facendo loro, faccio l'iPod nano, faccio l'iPod shuffle, faccio l'iPod touch, quelli sono estensioni di linea, ok? Così come se non sto attento e comincio a fare tutti i vari formati dell'iPhone, l'iPhone S per i poveri, l'iPhone più grosso, l'iPhone più piccolo, l'iPhone più verde, quello tende ad essere un problema. Così come comincia ad essere un problema quando torni a fare le stesse cazzate che Jobs ha dovuto mettere a posto quando arrivi, cioè nel senso ad oggi che differenza c'è tra, loro avevano creato per esempio il MacBook Air per essere il MacBook portatile sottile, ma il nuovo MacBook, ok? Che non è il Pro, il nuovo MacBook è quello normale, è uguale all'Air, cioè sono due prodotti uguali, stanno facendo le stesse cose che li ha portati alla condanna quando in realtà stavano fallendo all'inizio con la gestione dischelli e l'iPhone grosso, ok? L'iPhone plus, cazzo ma è uguale all'iPad mini, cioè nel senso li state mettendo uno sopra, sono troppo vicini, state creando troppe cose simili, state mettendo uno sopra l'altro, questo è un enorme problema, ok? Questo è un enorme problema. Quindi l'Apple ragazzi è un family brand che ha fatto delle cose egregie, in alcuni casi poi anche loro fanno le cazzate, le estensioni di linea, ma le cose che funzionano, delle cose che fanno sono la parte family brand, non sono la parte di estensione di linea, quindi chi vi dice Apple fa l'estensione di linea perché iPad, iPhone, vedete che stende la linea? No, ok? Quello è un family brand, ok? Sono il resto che va dietro a questi prodotti che sono delle scemenze. Infatti il grosso problema qual è? Ok, cioè per creare un family brand come la famiglia hype qualcosa serve un brand con un significato superiore arrivato per primo nella testa dei clienti, ok? Quindi iPhone è un brand a sé, non si chiama Apple telefono, ok? Infatti poi la cazzata che hanno fatto è quando hanno fatto l'Apple Watch per esempio, l'hanno fatto perché volevano fare in realtà l'iWatch ma gli avevano fregato il nome, lasciamo perdere, però di base non è solo quello il problema dell'Apple Watch, ok? C'è l'articolo, sito d'Orris sul blog brandpositionitalia.com, ve lo andate a leggere. Il grosso del problema ragazzi è che quindi iPad è un brand, iPod è un brand, iPhone è un brand a sé, fanno parte di un family brand perché il family brand sopra rappresenta qualcosa, ok? Quindi che cosa, che significato superiore ha Apple che ha creato per primo nella testa dei clienti? Allora che cos'è Apple? Apple è un device elettronico di fascia alta, quindi il brand di Apple significa che, vedete come è un brand che va a prendere una categoria vera e propria perché Apple nella testa delle persone significa device elettronico di fascia alta, quindi io posso fare l'iPhone, posso fare l'iPod, posso fare l'iPad certamente perché posso creare device che creano innovazione da questo punto di vista tecnologica, quello che non posso fare è cominciare a fare le estensioni di linea di questi prodotti, quindi quando comincio a fare, quindi all'inizio Jobs che cosa ha fatto? C'è il telefonino piccolino, ok? Perché devi telefonare, devi connettere, devi fare le cose, se no ti compri l'iPad se ci devi slavorichiare. Oggi stanno cominciando a fare tutte le estensioni di linea in mezzo che convergono verso la linea mediana, cioè fanno gli iPad più piccoli e fanno gli iPhone più grossi, alla fine c'è l'iPhone grosso che è diventato grosso come un iPad mini e uno cosa deve comprare? Cioè vi rendete conto da soli che non ha senso questa cosa? che stanno creando dei casini, però quindi il casino non è, ah vedi Apple ha fatto successo con le estensioni di linea, no Apple ha fatto successo con la focalizzazione su un family brand che è Apple che deve essere elettronico di fascia alta creando i family brand, iPod, iPhone, iPad, ok? Poi fa anche Apple, anche Apple fa le cazzate, cioè ragazzi riuscite a capire la differenza, ok? Tra le cose fatte giuste e le cose fatte sbagliate, chi non capisce niente di positioning e di brand vi dice che Apple ha avuto successo perché fa le estensioni di linea, ma in realtà è il contrario, questa gente è ignorante, non capisce di che cosa sta parlando, ok? Quindi, ve lo rileggo, per creare una family brand come la famiglia i qualcosa serve un brand con un significato superiore arrivato prima alla testa dei clienti. Coca Cola non può fare questa cosa perché Coca Cola significa la cola originale, quindi automaticamente tu non puoi lanciare Coca Cola Zero, Coca Cola Light, Coca Cola Dial, perché? Perché non puoi fare un family brand da un brand che non esprime sotto la possibilità di crearci una categoria, infatti correttamente anche Coca Cola fa alcune cose corrette che è stata quella di creare la Fanta, di creare la Sprite, quindi le altre bevande con un nome specifico, ok ragazzi? Quindi questo concetto vi deve entrare in testa, dovete cominciare veramente a capire questo passaggio perché se no è veramente un problema, ok? Quindi, Disney, cos'è Disney? Disney è intrattenimento per bambini, Disney non fa nessuna estensione in linea, Disney, David Ecker si è preso dell'imbecille in diretta mondiale da, sia Doris che da Jack Trout che gli risposero in manetta aperta spiegandogli che lui portava Disney come esempio del fatto che le estensioni in linea funzionassero, quando in realtà Disney invece è il classico esempio invece di family brand, quindi di focalizzazione, Disney significa intrattenimento per i bambini, a sua volta Disney ha creato, i brand di Disney addirittura sono i personaggi stessi che possono essere declinati in tutte le cose, poi c'è Topolino è un brand di per sé, Paperino è un brand di per sé, allora non è che se io dove lo metto cambiano le cose, non è che se Paperino lo metto in un cartone animato o lo metto all'interno di un Disney Park, ok? Allora sto facendo estensione di linea, no, perché Disney ha creato il mondo è un mondo a parte di sospensione, di incredulità, di intrattenimento per bambini, quindi lo puoi fare con le musiche, questa sospensione, incredulità e intrattenimento per bambini, con la Walt Disney Record, puoi fare la Walt Disney Picture perché fai i film, ok? Disney Channel perché è il canale dove i bambini vanno e vengono tutti i giorni rinseriti all'interno di questo mondo, che serve per tenerli dentro e vendergli il merchandising, vendergli i DVD, vendergli le maglie, vendergli tutte le cose, Disneyland Resort è la stessa cosa perché quando vai dentro Disney ovviamente ci sono i resort, ci sono i parchi, ci sono gli store dove tu continui a comprare le cose che ti tengono connesso a questo mondo di intrattenimento per i bambini, è un mondo immaginario dove loro hanno creato dei personaggi che vivono di vita propria e vivono di vita propria all'interno del parco, nella televisione, quando vai dentro l'albergo Disneyland che c'è il topolino che ti aspetta, che ti accoglie, quindi non è estensione di linea Disney, è un family brand che può creare tutte queste, è chiaro che ovviamente sono cose che sono connesse al brand originale che è intrattenimento per bambini, ma se il tuo brand non è arrivato per primo, non è arrivato cent'anni fa e non si è potuto prendere una macro categoria, quindi non c'è niente nel mondo che sia associato a Disney in questo modo, mi dispiace, non puoi prendere l'esempio di Disney per dire allora qualunque brand può continuare a estendere il suo raggio per andare a prendere qualunque cosa, no perché Disney è il significato sopra che ti permette di andare a declinare quel mondo con i vari tipi di prodotti e nel tuo brand, nel tuo caso no, ok perché stai facendo delle cose idiote, cioè Disney non è mele gatti, mele gatti è il pandoro, cioè la capite sta cosa, cioè si capisce, cosa vuol dire nella testa delle persone del tuo brand, se mele gatti vuol dire il pandoro originale, non vuol dire che quindi puoi estendere anche tu e puoi fare gli altri tipi di dolci mele gatti o il gelato mele gatti perché ti è venuto in mente, Disney significa il mondo immaginario di intrattenimento per bambini, quindi tutto quello che ruota intorno a questo mondo, quindi declinando i personaggi che hai in quel mondo tu lo puoi assolutamente fare, cioè non c'è nessuna estensione di linea, solo che il problema è che i coglioni all'università dicono ah vedi Disney fa così, quindi Disney estende il suo raggio per fare più soldi possibili, quindi facciamolo anche noi, quindi il direttore marketing della mele gatti che avrà studiato quella roba lì, pensa che lanciare i cornetti mele gatti sia una cosa intelligente, ma non lo è, non lo è, quindi questo è il grosso del problema. Allora, ragazzi continuate a dire che si blocca il microfono, vi assicuro che vi si blocca a voi la connessione, ok? Cioè perché ad alcuni, sì, io sto trasmettendo dritto e voi avete una connessione probabilmente dove siete che va e non va, quindi non continuate a dire che si blocca il microfono perché il microfono funziona perfettamente, ok? Fatti, ve lo dice la gente, si sente benissimo, ok? Chi non gli va ragazzi è la vostra piattaforma dalla vostra parte, ok? Allora, quindi smettetela di rompere, non si sente, non si sente perché avete una connessione di merda, abitate in Italia, nel paese dove le connessioni vanno a modello uomini delle caverne, purtroppo non è colpa mia, ok? Prendetela con il vostro operatore telefonico. Allora, torniamo a noi. Cos'è Porsche, per esempio? Ok? Porsche è la macchina sportiva per eccellenza. Quindi parlavamo ieri di questa cosa e ha senso fare gli occhiali della Porsche, quindi? Quindi Porsche Design, Eyewear, e di base no così come lo fanno loro, nel senso che, allora, i prodotti ragazzi si lanciano non nel vuoto, cioè si lanciano in funzione di cosa dice, cioè è un'estensione di linea o no? Allora, dipende, nel senso che devi fare un'analisi. Allora, uno, il tuo brand originale Porsche dice occhiali? No. Dice macchina sportiva, come faccio a traslare da un'automobile il brand su un paio di occhiali? È veramente un caso, cioè come te lo sei visto? Ok? Allora, il grosso del problema, quindi qual è? È che, uno, il tuo brand che cosa vuol dire? È coerente? No, mi sembra che siamo molto lontani. Due, ci sono già, cioè perché ti devi mettere in una categoria che è già dominata da infinite margini, non sei primo, non sei secondo, perché ti devi buttare là dentro a creare una produzione di prodotti? Poi sicuramente non li fanno loro, è una cosa che hanno dato il brand Porsche, ovviamente, o hanno creato una divisione oppure l'hanno dato in licenza per fare questo tipo di prodotto, ma se io fossi in azienda non prenderei mai il marchio Porsche, non so se è andata così, però magari l'hanno dato in licenza, non lo so, però se io fossi in azienda non prenderei mai il marchio Porsche per dirgli voglio fare i miei occhiali con il vostro brand sopra o se fossi la Porsche non perderei mai tempo a mettermi lì a fare gli occhiali. Lo spiegavo invece ieri e voglio ribadire e approfondire questo concetto, nel senso che puoi usarlo come strategia di marketing se li rendi inaccessibili, nel senso che li puoi regalare, per esempio, a coloro che comprano le auto, solo che se li regali come fanno normalmente le varie case che ti regalano il merchandising, allora non hanno valore e non se li mette nessuno, perché uno più si compra la Porsche, non si mette un paio di occhiali, se quel paio di occhiali significa che è regalato e non vale un cazzo, quindi devi usare una doppia strategia, li devi regalare sicuramente perché acquista una macchina nuova da te, ma li devi anche mettere in vendita, solo che li devi mettere in vendita più cari degli occhiali più cari che ci sono al mondo, quindi devono costare 1000, 2000, 3000, non lo so, è comunque una cifra assolutamente spropositata, in modo che per finta sembra che siano in vendita da qualche parte, nel senso qualche pazzo se li comprerà pure, ok? Però il concetto è che chi si indossa con gli occhiali significa che ha in realtà 100, 100, 150, 200 mila euro di macchina sotto al culo, allora quello potrebbe avere un significato, ma fare gli occhiali della Porsche per venderli non ha nessun significato, è come avere l'orologio della Maserati, ma cosa significa? Che sei ricco, che hai una Maserati? No, significa che magari hai la Panda Gas e ti sei comprato l'orologio della Maserati, perché sei uno sfigato, vorrei ma non posso, cioè capite che gli occhiali della Porsche, se non hai la Porsche significano vorrei ma non posso, allora e se li regali e basta non ha senso, e uno che è un figo che si compra il top di gamma delle macchine sportive che è la Porsche, non si compra gli occhiali non top di gamma, non è che se compro la Porsche mi metto anche gli occhiali della Porsche, molto probabilmente mi prenderò gli occhiali più cari o più figosi che ci sono, la gente ragiona per categorie, quindi non è che se tu significhi lusso in una categoria significa automaticamente che rappresenti il lusso da un'altra parte, anzi molto probabilmente non è così, quindi questo è quando vedete, sono estensioni di linea, ma più che estensioni di linea sono una scemenza di per sé, quindi il grosso del problema è questo, quindi che cos'è Grom per esempio? Grom è il gelato, a casa mia è il gelato come una volta, cioè si hanno messo tanto all'inizio per partire e cercare di convincere le persone che il loro gelato fosse fatto con gli ingredienti naturali, quindi senza conservanti, senza schifezze dentro, senza addittivi e questa è una cosa buona, quindi Grom è il gelato come una volta, a me va benissimo, mi devi spiegare che cos'è questa roba qua, questa roba qua da quando l'hanno venduto a Unilever sono queste ghiacciare che trovate nel bar di paese, dove dentro ci sono i ghiaccioli, quindi nemmeno il gelato, guardate che salto triplo con l'asta, quindi questi fanno i ghiaccioli confezionati, dal gelato come una volta naturale al ghiacciolo confezionato nella ghiacciara al bar di Peppino in mezzo alla piazza del paese, è un'estensione di linea, ragazzi ditemelo, non è un'estensione di linea, è come cazzo ti è venuto in mente una cosa del genere, perché il problema veramente è come cazzo ti è venuto in mente di prendere il brand Grom che sta cercando ancora comunque di affermarsi da un certo punto di vista e farci il ghiacciolo confezionato dentro la ghiacciara del paese, è veramente un grosso problema, nel senso che io voglio essere generoso, voglio fare un'analisi un po' più, perché io amo Grom, stimo Grom per quello che hanno fatto in termini di business e voglio anche essere severo ma giusto, quando fanno delle cose buone, li ho sempre stradifesi, quando fanno qualcosa che non ha senso, lo dico tutto lì, li adoro, sono i più grandi che ci sono, sono stati bravissimi da quel punto di vista, fanno qualche cazzata, nel senso, vedete questo, qui già mi cambia, questi sono i loro ghiaccioli all'interno del punto vendita, allora vedete come sono belli, sotto ci sono le scritte fatti solo con la frutta naturale, sono quelli che sono buonissimi fatti con la frutta ricoperti di cioccolato, li vedete lì in fondo, allora come upselling all'interno del punto vendita, a me sta anche bene, non sono un nazista, è una gelateria, ci sta che la gelateria possa anche avere il ghiacciolo, non dico di no, ok? Secondo me all'interno della gelateria il ghiacciolo non ci dovrebbe essere, perché il ghiacciolo non è roba da gelateria di alto livello, ok? Il ghiacciolo è roba da bar, ok? Il ghiacciolo si compra al bar, in gelateria ti fai il gelato artigianale, ma questa gliela voglio passare perché sono assolutamente generoso, quindi non voglio litigare, ok? Diciamo che se li fai bene e ti attacchi al concetto di come una volta senza conservanti ti voglio permettere di strecciare, anche se si chiama il gelato come una volta, te la voglio strecciare, cioè ti voglio permettere di arrivare fino al mio problema, non è che tu faccia il ghiacciolo, cioè questo qua è sposto bello, ok? Davanti alla vetrina, mi piace come piccola, magari un bambino arriva e vuole il ghiacciolo, vabbè, diamo, non voglio fare il nazista del posizionamento, mi devi spiegare però cos'è sta roba qua, cioè cos'è sta merda, cioè cos'è la ghiacciara a brand Grom dentro i bar con il ghiacciolo confezionato, cioè per me è questo qua, quindi non è solo, se Grom fa i ghiaccioli, estensione di linea o no, dipende, cioè dipende se sono un upselling da dentro l'attività, dentro il negozio, mi turo il naso e te li posso passare, non mi piace, cioè non ha senso se fai il ghiacciolo che è confezionato come tutti gli altri con la ghiacciara, ok? All'interno del bar, questa è una roba proprio da manager, unilever proprio, cioè questo è un lavoro che non sta veramente nel cielo all'interno, ok? Quindi vedete come bisogna essere fini, bisogna essere esperti di branding per dire delle cose intelligenti, perché anche sullo stesso prodotto è estensione di linea o no a seconda di come lo proponi, se lo proponi dentro il negozio te lo posso passare, diciamo che fallo ma riga fa campo ancora, se me lo proponi confezionato nella ghiacciara, come quello algide, ti devo tirare quattro porconi che deve venire giù tutto, ok? Perché non si fa così, vuoi creare il ghiacciolo top of mind di lusso per le varie catene distribuirlo con la tua catena del periodo, io lo capisco, unilever, la catena del freddo lo vuole usare, la sua distribuzione, bene, non usare il brand di Grom però per sputtanarlo con la roba dozzinale buttata nel ghiacciare, cazzo, crea un brand nuovo che significhi ghiacciolo confezionato top di gamma senza conservanti, non usare Grom che è il gelato come una volta per fare queste puttanate, qua io è solo questo che dico, ok? Cioè questo è il grosso del problema, quindi io non voglio fare il nazista, voglio semplicemente dire che io capisco di brand, te no, e quindi magari se evitate di fare delle puttanate è meglio, ok? Vi ho fatto questo esempio del ghiacciolo di Grom, ragazzi, proprio perché è molto fine, cioè per farvi capire che un prodotto può essere estensione di linea o no anche a secondo semplicemente di dove e come lo metti in vendita, magari non è il prodotto in sé ma è come viene proposto. Quindi qui, in store, per me te lo passo come upselling, fuori è una scemenza, è proprio una scemenza brutta, ok? Quindi diciamo che, allora vi faccio questo paragone tra Grom e le bevande gassate, le bevande gassate sono una categoria a sé, ok? Le bevande gassate, per citare quelle più famose della catena della Coca-Cola, è Fanta, perché è l'aranciata, Coca-Cola, Coca-Cola ovviamente è la Sprite che è la gassosa, quindi sono le bevande gassate, è la macro categoria, ma nemmeno Coca-Cola si è permessa di prendersi il family brand bevande gassate. Il brand Coca-Cola, anche se l'azienda si chiama Coca-Cola Company, è rimasto Coca-Cola per la cola. L'aranciata l'hanno chiamata Fanta, vedete non l'hanno chiamata Cola Orange, ok? Così come la Sprite non l'hanno chiamata gassosa Coca-Cola, ok? Anche loro non si sono permesso, quindi chi mi dice Disney deve essere l'esempio di come tutti devono fare, quindi lanciare tutte le estensioni di linea possibile, uno no, perché Disney non fa estensioni di linea, due, non lo fa nemmeno Coca-Cola, perché il suo brand, Disney significa intrattenimento per fanciulli, Coca-Cola non significa bevande gassate, non prende la macro categoria, ok? Prende il nome di Coca-Cola, c'è solo della cola, quindi le altre le ha chiamate in modo diverso. Non penso che ci voglia un genio, capisco che siano ragionamenti un po' fini per uno che ci si approccia la prima volta, ma quando te l'ho spiegata non penso che ci voglia un genio a capirlo, cioè finché non te lo dico è difficile, da quando te l'ho detto avanti non mi rompe un po' si capisce, ok? Allora sotto c'è la categoria dei dolci congelati, bisogna che ne parliamo di questa cosa qua con Grom, perché i dolci congelati, c'è il gelato è un dolce a sé, il ghiacciolo è un altro prodotto, il gelato fatto con lo yogurt, quindi lo yogurt gelato è un altro prodotto ancora, la granita è un altro prodotto ancora, li vogliamo chiamare tutti Grom, cioè quindi Grom deve diventare sinonimo di tutti i dolci congelati? In store mi può anche, non va fatto secondo me, ma diciamo che in store mi turerei anche il naso e qualcosa te la posso passare, come ho già detto, ma se tu usi Grom per cominciare ad andare fuori e vendere i prodotti a marchio Grom che definiscono tutta una serie di dolci congelati diversi, non te lo posso concedere, quindi Grom purtroppo adesso è stata arrivata da Unilever e quindi avranno questo grande disastro nel medio periodo dei brand, perché avranno un brand che verrà utilizzato per i prodotti in store e per i prodotti venduti fuori, quindi probabilmente arriveranno nei supermercati, sono già arrivati nei bar, nelle varie location, quindi usare in store, cioè all'interno del negozio tu puoi allargare l'offerta perché il frontend, del gelato e il resto te li passo come upselling, fuori stai sbragando il brand, quindi vedete ragazzi qual è, quindi come bisogna ragionare, cioè dovete avere delle competenze che sono specifiche, quindi grosso del problema, diciamo che si capisce ragazzi che le bevande gassate sono queste, i dolci congelati sono prodotti diversi, quindi Coca Cola non ha marchiato tutto come Coca Cola, Grom invece se andate a vedere il gelato come una volta, guardate sotto cazzo, ok? Gelato, ok bene, il gelato come una volta, eccolo qua, gelato, ok buono, sorbetto, va bene te lo passo perché è il gelato fatto di solo frutta, va bene, la granita siciliana Grom, i siciliani si incazzano ovviamente se fai la granita siciliana, ma te lo passo, il frappè minchia, qua cominciamo ad andare veramente di là, ok? Ma facciamo finta che te lo passo dentro lo store e tutto quello, qui tutto Grom, va bene, quindi Grom va su tutto, è un grande classico, ormai è un grande classico, ok? Il gelato come una volta si presuppo, va bene, io ti passo che si chiamano, ti voglio passare in store il concetto che tu puoi fare, puoi lanciare gli altri prodotti di dolci congelati, ok? Va bene, te lo voglio passo, non voglio litigare, adesso qualcuno mi dice che cazzo c'entra la cioccolata calda dentro la gelateria fatta per vendere i prodotti freddi? No, perché se mi spiegate che cazzo è la cioccolata calda, allora fai il bar, allora non è più la gelateria high level, ok? Non è più la gelateria high end Grom, è un bar cazzo, perché se continui a fare tutto ci fai pure la cioccolata, cioè dal gelato all'esatto posto la cioccolata calda, figa, è un bel salto, bisogna che me la racconti bene, bisogna che me la racconti bene la cioccolata calda, ma io me lo vedo in faccia con il direttore marketing, io me lo vedo, io mi vedo gli ingranaggi del suo cervello, proprio me lo vedo, era successo, la stava cagando, stava cagando la viola perché qualcuno ha fatto una domanda, bello Grom questa bella mia gelateria, però in Italia abbiamo un problema, che se vuoi quotare in borsa l'azienda o la vuoi vendere quant'altro, noi dobbiamo avere un flusso di cassa più costante e più prevedibile, quindi mi devi fare qualcosa che si venda anche d'inverno, perché in Italia dal centro nord in inverno fa sempre freddo, quindi i gelati si vendono 4-5 mesi all'anno, che cosa facciamo? Questo poveretto disperato, io me lo vedo, è andato a casa, si è messo sul cesso, ha cominciato a pensarla, ha cagato la viola, facciamo la cioccolata calda così d'inverno la gente verrà da noi a bersi la cioccolata calda, ma ti tira il culo, ma ti sembra che io, perché poi Grom vive nelle città, ovviamente nei paesi, ti sembra che io nel mio paese non abbia il locale preferito magari nel quale andarmi a prendere la cioccolata calda, ti sembra che uno possa associare il piacere di sedersi rilassato a bere una cioccolata calda da Grom una gelateria dove tendenzialmente se magna pure in piedi, la cioccolata calda che è un gusto da potersi mettere giù, la prendi per stare un po' rilassato, per parlare magari un po' con gli amici, tutte queste cose qua, ma come cazzo ti viene in mente una cosa del genere? Cioè io divento pazzo, capisci? Cioè io divento veramente pazzo, come ti viene in mente una cosa del genere? Quindi da dove salta fuori sta roba, ok? Poi, cioè andiamo avanti, Grom, baci di dama, cominciano a fare i biscotti, no perché sai uno viene lì viene a mangiare il gelato e si compra i baci di dama, non lo so magari come ti è venuto in mente, certo, non è che puoi estendere, cioè Grom non può, non potrà mai diventare, io capisco il concetto che il gelato come una volta va bene, ma non puoi estendere il concetto di Grom ha qualunque prodotto da mangiare fatto naturalmente, perché è quello che vorrà fare un relever, ok? Sarà estendere il più possibile per trasformare in Grom, dai il gelato come una volta, a Grom prodotti da mangiare, ormai un'altra avrei detto freddi, fanno pure la cioccolata calda e i biscotti non sono nemmeno più prodotti gelati, perché almeno là dentro gliel'avrei passata, ma adesso è diventato un bar, cazzo, allora, eh, prodotti fatti con attenzione alle materie prime senza mettere conservanti, cioè capite che l'hai stiracchiata un po' troppo sto cazzo di Grom, dai il gelato fatto bene, cazzo, a qualunque cosa si muova, che si possa mangiare fatto senza conservanti, cioè Grom lo stanno stiracchiando a essere qualunque cosa si possa mangiare, mettere in bocca senza conservanti, cioè, non può funzionare, e allora così non va bene, ok? Cioè, porca troia, cioè, apri un bar, allora è inutile che c'è, lo state distruggendo sto cazzo di Brandy, ok? Lo state distruggendo, ok? Quindi poi è chiaro che dopo il bilancio, il singolo punto vendita, cazzo era in perdita e ti serve venderlo, ti serve farti rilevare da ogni lever perché in realtà l'azienda non ci salta fuori quei conti, ma perché? Perché tu ancora non hai dato tempo al brand di attecchire città per città, paese per paese, spiegando ovunque che il gelato come una volta è meglio di quegli altri per tutti i motivi che tu vuoi spiegare, è vero o non vero? Non voglio entrare in polemica ragazzi con i gelatieri o i gelatari, cioè nel senso Grom cerca di dire questa cosa, finché dove hai aperto te, gli altri non chiudono, vuol dire che il tuo brand ancora non è entrato, se tu vedi che i numeri non girano, invece che aprire punti vendita, cazzo devi spendere meno soldi nell'aprire altri filiali, magari all'inizio stai un po' più concentrato, ti concentri nel, funziona così, ti concentri a creare un brand localizzato che una volta che lo sporti, esporta una nomea molto forte, ok? Più forte di quella che hai, invece tu continui a cercare troppo velocemente di espandere i punti vendita e espandi troppo la linea dei prodotti, quindi crei confusione, ti si abbassano i margini perché ovviamente a fare, cioè se fai solo il gelato hai i tuoi costi, se devi fare il gelato e la cioccolata calda, cazzo ma sono macchinari diversi, sono produzioni diversi, sono ingredienti diversi, sono stoccaggi diversi, sono forniture diverse, saranno pure fatture diverse che girano, cioè devi fare la granita è un altro prodotto ancora, devi fare il frappè è un altro prodotto ancora, quindi fai lo stesso errore che fa Mc Donald, ok? Che prende il calcio nel culo da In-N-Out che è la catena di hamburgeria che fa un solo hamburger e stranamente fattura e margina molto più di loro punto vendita su punto vendita, quindi questo è il grosso del problema ragazzi, ok? Quindi a me non va bene questo, cioè non va bene che fai le ghiacciare in giro e che Grom diventa qualunque cosa si possa mangiare che senza conservanti, ok? Questo non mi va bene, quindi il ghiacciolo te lo passo se me lo vendi in store come upselling, non te lo passo se lo vendi nella ghiacciara al bar da Zio Filippo sotto casa, questa è una porcheria proprio brutta. Capisco che abbiano venduto a Unilever, capisco che in Unilever ci siano quindi i manager ottuso, modello grande azienda che non vedeva l'ora di sfruttare la loro catena del freddo della distribuzione, però non così, è veramente un peccato, mi dispiace perché ho sempre amato Grom dall'inizio, sono stati bravissimi, sono stati molto coraggiosi, hanno fatto cose che prima di loro sembrava fossero impossibili, sono contento per loro, per i due soci fondatori che hanno fatto tantissimi soldi vendendo l'azienda, mi dispiace per il brand da tecnico, ok? Poi sono contento per loro che hanno guadagnato un sacco di soldi e se li meritano tutti, secondo me se ne meritavano anche di più, se ne sarebbero potuti meritare di più se avessero gestito un po' meglio l'azienda, facendo girare un pochino meglio i fatturati ai margini nel singolo punto vendita, evitando di sbragare un po' di roba, comunque hanno fatto delle cose che io non ho fatto, quindi tanto di cappello e sono bravissimo, ok? Proprio per questo, perché amo molto il brand, non il gelato, eh? Cioè amo molto il brand Grom, è quello che ha significato per l'Italia, per me è veramente un orgoglio nazionale, mi dispiace vederlo spuntanare così, veramente brutto, veramente un peccato. Andiamo avanti, stavamo parlando di In-N-Out Burger, In-N-Out Burger è quella catena americana di hamburger che fa concorrenza semplicemente a McDonald's, monopanino tendenzialmente, cioè voi vedete, allora hanno tre panini qua se li vedete, nel senso che sono il Double Double, il Cheeseburger e l'Hamburger, in realtà è sempre lo stesso panino, cioè è sempre la stessa fetta di carne, semplicemente l'hamburger è quello normale, nel Cheeseburger aggiungono una fettina di formaggio, il Double Double è lo stesso panino per due, cioè con due fettine di formaggio e due fette di carne, ok? Quindi in realtà è lo stesso panino, perché non cambia, non è come McDonald's che ti fa il filetto figlio, quello col pesce, quello col pollo, quello con l'aragosta, quello vegetariale, quello che chita e murcia, non è così, quindi loro in termini di produzione, anche in termini di piastra, ne hanno solo una, perché fanno solo quella roba lì, ok? Quindi tutti, ah no, vedi, McDonald's vende poco perché ormai la gente è diventata salutista, non vuole più mangiare gli hamburger, si reca, non è vero, ok? McDonald's vende meno perché ha una, mi sembra, li cambiano ogni giorno, quindi ha tipo un centinaio di prodotti a catalogo, non si capisce niente, questi hanno un hamburger che te lo personalizzano mettendoti una fettina in più o meno, ma è sempre la stessa piastra, è sempre la stessa carne, quindi non fanno pollo, non fanno, mentre il Chick-fil-A invece fa proprio il solo pollo, al contrario, anche loro vanno molto bene, sono molto bravi, loro fanno un solo panino, ti danno l'accompagnamento, solo le patatine fritte, quindi non hanno le insalatine, se uno vuole la roba biotetic, qua l'affanculo, viene a mangiarti l'hamburger di merda, ingrassi, ti mangi le patate, non rompi c***o, ci hanno ragione loro, ci hanno ragione loro perché hanno solo un hamburger, un solo tipo di accompagnamento che sono solo le patate fritte, gli shake e la coca-cosa, le bevande, ok? Finito, 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 ok? Quindi fatto questo, questi con un solo panino, un solo accompagnamento, la bevanda e al massimo il milkshake, fanno il culo, ok? Sistematicamente punto su punto a McDonald's che ha un brand, fanno gli stessi panini di merda, non è che loro la puntano su, no? La grande qualità, fanno semplicemente meno, cioè il concetto è vieni, te lo prendi, ti togli dai coglioni, mangi, paghi e vai fuori dalle palle, ok? Quindi in un outburger con focus, semplicemente brand, focalizzazione, un solo panino, questi fanno un solo panino, noi vieni, te mangi, quindi ragazzi, se questi fanno il culo a McDonald's che è un brand molto più potente del loro, ha tutta una serie di infinita di estensioni di linea di prodotti, sarà che queste cazzo di estensioni di linea di prodotti, vi verrà il dubbio dopo un po' a forza di spiegarve che le estensioni di linea sono una scemenza e che in realtà tu devi semplicemente dare tempo al brand di funzionare e attirare il tuo target specifico per farlo funzionare? In un outburger, sono dei campioni del mondo, un cazzo di panino, sono patatine, ma se viene la donna, perché come ragionano i testi di cazzo al market, ma se viene la donna che vuole l'insalatina, la donna che vuole insalatina, non viene nel mio locale dove faccio hamburger e roba fritta, unda, bisunda, cicciosa, andrà in un cazzo, in tavola fredda, in tavola calda dove le danno l'insalatina, proprio da me, io mi devo prendere, non è che tutta la gente che vuole mangiare deve finire nel mio negozio, nel mio negozio devono finire quelli che vogliono mangiare la merda che vendo io, se uno vuole l'insalatino perché vuole, va a mangiare l'insalatina dove fanno l'insalatina, tutto lì. fine, ok? se vuole il panino diverso, se vuole il panino diverso non glielo faccio, va a fanculo, se vuole il panino alla mortadella, ce lo fa fare dalla mamma la mattina quando esce, io, da piccolino, quando uscivo fu alla mattina, mi fa il panino alla mortadella, 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 e la fetta di formaggio me lo mangiavo, ok? Madonna, mi fa tenere l'ansia. Allora, avanti, Sapa, per esempio, Sapa è un mio studente, che è l'azienda della famiglia finita, Giovanni è uno dei miei studenti, è una bellissima azienda, si trova in provincia di Benevento e si occupa, sono fornitori per la Fiat, sono fornitori per la Volkswagen, nel mondo, per la BV, è una bella azienda, fanno più, adesso non ho i fatturati aggiornatissimi, mi sembra che facciano, siamo intorno ai 250 milioni di euro di fatturato, è una bella azienda, ci abbiamo lavorato, questo non è il logo ufficiale, non ce l'avevano saputo tirarlo fuori, l'ho scritto io a mano, e ci stiamo lavorando, abbiamo lavorato con Orris, proprio quindi con Giovanni l'ho accompagnato, siamo andati insieme ad Atlanta, e abbiamo, Al ovviamente gli ha rilavorato un pochino sopra il brand il concetto, quindi ha cambiato il payoff, il payoff è diventato superior auto parts and accessories, perché il concetto di Sapa era posizionarsi rispetto a competitor molto più grandi, la Sapa è veramente grandissima per gli standard italiani come azienda un colosso, ma rispetto agli standard mondiali ovviamente non è così grande rispetto ai produttori più grandi, quindi focalizzati su un certo tipo di produzioni con una qualità, una tecnologia molto alta che è specifica all'interno di Sapa stessa, quindi è diventata superior auto parts and accessories, e il grosso del passaggio del passaggio è che i prodotti che vengono, le linee o meglio che sono all'interno, Orris stesso ha detto di tenerle e chiamarle con la brandizzazione Sapa stessa, perché Sapa diventa, deve diventare per le persone, per i clienti, il concetto della componentistica di livello superiore, ok? Sarebbe la Apple, quindi Sapa è la Apple di questo tipo di componentistica per le case automobilistiche, ok? In questo caso tu lo puoi fare, quindi è giusto che tu mantenga il nome, essendo una PMI all'interno della linea di prodotti, non puoi, è inutile andare a che, cioè, se il tuo brand rappresenta questo tipo di tecnologia, quindi Sapa rappresenta una tecnologia, allora sotto, come Apple rappresenta una filosofia, una tecnologia, allora puoi creare, è la stessa cosa, quindi noi abbiamo portato tutti, ma l'Apple, l'Apple, no, perché? Perché il macro brand sopra rappresenta una tecnologia, quindi sotto tu lo puoi tenere, ok? Quindi questa è una cosa straordinaria, l'abbiamo fatta in Italia a Benevente, con Joan, ok? Quindi il ragazzo, cioè, lavoro fantastico fatto da Giovanni, lavoro fantastico l'ho fatto da Al, ok? Questa cosa meravigliosa e quindi, per farvi capire come l'Apple, l'azienda, cazzo, che fa pezzi per le macchine a Benevento, può utilizzare la stessa strategia di Apple se nasce ovviamente per poter avere quel tipo di prendizzazione, altrimenti avremmo dovuto scegliere semplicemente una strategia diversa. Però per farvi capire che no, la fa anche la PMI italiana, certo non è il negozio sotto casa, l'azienda fa 250 milioni di euro, ma comunque rispetto ai colossi del settore rimane una piccola azienda. Comunque esprimendo come l'Apple il concetto di una tecnologia superiore, vera o presunta ragazzi, ricordo che il brand significa una battaglia di percezione, non è una battaglia di prodotti, non è una battaglia di realtà. Allora possiamo esprimere, quindi da Benevento a Cupertino è la stessa cosa, il brand non fa distinzione, quindi grande lavoro da parte di Giovanni, di tutta la Sapa e di Al su questa cosa qua. Altro concetto che mi avevano chiesto i ragazzi, invertire l'estensione della linea, è un concetto che Al aveva cominciato a spiegare per esempio nel primo libro proprio in positioning, quindi un ragazzo l'altro giorno, adesso non mi ricordo come si è, mi ha postato lo screenshot, mi aveva chiesto di commentarlo nel gruppo venditore vincente e nel libro c'è scritto questo, leggete, mentre l'estensione di linea spesso e volentieri si libera un errore, l'inverso può funzionare, invertire l'estensione di linea significa ampliare la base ed uno dei migliori esempi di questa strategia è lo shampoo per bambini Johnson, quindi pubblicizzando la delicatezza del prodotto nel mercato degli adulti, questa azienda ha fatto dello shampoo baby Johnson, una del market leader degli shampoo per adulti ovviamente, perché vedete il baby shampoo Johnson è un modo per in realtà invertire l'estensione di linea ed espandere proprio la base, perché ho trovato ragazzi questa foto che quella non more tears in italiano sarebbe mai più lacrime, quindi con la lacrima che c'è la goccia a forma di lacrima che scende e il baby shampoo Johnson perché? Perché nasce ovviamente targettizzando i bambini, nel senso dice è così neutro che nemmeno i neonati, cioè lo possono usare anche i neonati perché anche se gli entrano gli occhi i bambini si sbagliano, non piangono, è delicato, non fa male, ma lavorando sul concetto di delicatezza, questo concetto di delicatezza ovviamente è qualcosa che può essere espanso anche a tutte le persone che non vogliono avere irritazioni alla pelle, agli occhi, alla cute, tutte queste cose qua, quindi in realtà loro hanno cominciato a, se vi ricordate quando facevano anche in Italia la pubblicità in televisione, baby shampoo Johnson, io me la ricordo negli anni 80, e c'era sicuramente la pubblicità con i bambini, ma c'era proprio la pubblicità con gli adulti che erano sotto la doccia all'aperto, cos'era il tramonto, che si mettevano il baby shampoo Johnson in testa, perché era proprio targettizzare gli adulti, quindi il baby shampoo Johnson è diventato una marca estremamente popolare per gli adulti, che sembra assurdo perché targettizza qualcosa che è il contrario del focus, ma perché? Perché la caratteristica ins che viene pubblicizzata, sulla quale ci si focalizza, non è il baby shampoo, cioè baby sta a significare così delicato che anche per un bambino neonato va bene, quindi se va bene è così delicato che va bene anche per un neonato, ovviamente va bene anche per gli adulti, non è, focalizzandosi in questo caso non si esclude la nicchia degli adulti, questa è una cosa molto buona, poi invece vi faccio vedere una serie di esempi dove questa cosa non funziona. E questo è molto 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 importante, ok? Disney stessa per esempio è come baby shampoo Johnson, perché? Perché Disney stessa fa finta in realtà di targettizzare i bambini, ma in realtà gli acquirenti sono gli adulti e fornisce una scusa, cioè nel senso per esempio alle famiglie, ok? Alle mamme, ai papà, fornisce una scusa per portare i bambini o guardarsi i cartoni animati, o portare i bambini al cinema, o portare i bambini al parco giochi, ma è una scusa in realtà non è perché ci vogliono andare loro, voi dovete entrare, dovete andare a Disney World a Orlando in Florida e dovete vedere quanto si divertono gli adulti all'interno di Disney World a giocare, a scambiarsi le spillette, tutte le cose che sono tipiche all'interno dei parchi Disney, gli adulti vanno pazzi, è una scusa. Dan Kennedy stesso lo spiega, è un nerd clamoroso, cioè questo va per i 70 anni e non vede l'ora come un bambino tutte le volte di andare a Disney World e per raccontare qualcosa di nuovo, ok? Quindi è veramente, veramente importante, quindi certamente targettizza fintamente i bambini ma in realtà ok? Crea un mondo di fantasia, quindi targettizza i bambini e coloro che si vogliono sentire tali, è questo il dato, ok? Come la Coca Cola, la Coca Cola è la bevanda originale, mentre la Pepsi è la bevanda per i più giovani, però non era solo per i più giovani, era la Pepsi è la bevanda per i giovani e per coloro che si vogliono sentire tali. Disney è il mondo per i bambini e per coloro che ancora si vogliono sentire bambini un'altra volta, vogliono prendersi il loro weekend per tornare a sentirsi bambini, vogliono prendersi il loro quarto d'ora davanti alla televisione per vedersi i cartoni animati di Topolino, di Paperino, perché vogliono avere la scusa, il pretesto per poterselo vedere. Le shampoo Johnson è lo shampoo così delicato che va bene, va bene proprio per i bambini, quindi va bene a maggior ragione anche per gli adulti che non vogliono irritarsi la pelle degli occhi, quindi questi sono tutti ragazzi esempi di inversione dell'estensione di linea, quindi una focalizzazione che però mi permette in realtà di allargare la base. Questo, biscotti Plasmon dei grandi, questa è una cosa meravigliosa, i biscotti Plasmon dei grandi è geniale, perché questo invece è il contrario, quindi qui se non siete esperti di branding vi fate fottere, nel senso che dite ok, se Baby Shampoo Johnson è fatto con i bambini e quindi lo comprano anche i grandi, lo dà, qua qualche genio del marketing gli ha detto Plasmon, come facciamo a venderne di più? Ormai è la nostra quota, vi giuro quale è stato il ragionamento, è come se io fossi stato dentro la stanza, ok? Plasmon, direttore marketing, riunione, come facciamo a vendere di più, visto che la nostra quota di mercato da anni non si muove in avanti, hanno fatto l'alzata di mano, qualcuno ha detto, ma è ovvio che non possiamo aumentare, perché i bambini in Italia, la natalità è sempre più bassa, ci sono sempre meno bambini, quindi stiamo anche perdendo magari qualche quota di mercato, l'unico modo che abbiamo per aumentare le vendite, sapete qual è? E tutti, dici, dici, è vendere i Plasmon anche ai grandi e tutti, oh, che idea geniale, male, grava promozione, è un bel direttore, bravo! Figa, mi morisse mamma adesso se non è andata così, io me la vedo la riunione di questi imbecilli intermonucleari che hanno fatto, io me la vedo, è una cosa proprio, quindi questi hanno fatto i Plasmon per i grandi, il problema è che i bambini, allora a parte che sono già i biscotti per i grandi, quindi se vai a vedere i biscotti ce ne quanti ne vuoi, 3 problemi, i biscotti per i grandi ci sono già, quindi infilarti là dietro e fare il follower in una categoria che esiste già non ha senso, 2 uno dei passaggi da bambino piccolo a bambino un po' più grande, quindi bambino cresciuto nella testa del bambino è che non mangia, tra virgolette, molti non mangiano più biscotti, quindi chiedono di mangiare altre cose, il papà la mattina quando va al bar si mangia il cornetto, allora lui a casa vuole i sacco, vuole anche lui il passaggio dal biscottino friabile alla brioche per esempio, è uno dei passaggi naturali all'età adulta del bambino, quindi questo è il secondo punto. Terzo punto in realtà è proprio che plasmon significa roba per moccioso, cioè il plasmon il bambino lo mangia finché non sa leggere, cioè quando sa leggere che è plasmon e plasmon si dice papà perché tu ti mangi i biscotti invece della colussi? Eh perché quelli sono per bambini, papà si mangia i biscotti per gli adulti e il bambino dice che palle non voglio più essere piccolo, anche io voglio i biscotti, quindi quando il bambino legge plasmon sopra in automatico c'è il rigetto perché non lo voglio più. Poi in realtà, confessione personale, quando ero bimbo io ho continuato a mangiare i plasmon per molto tempo, non dico fino in età adolescenziale perché mi piacevano molto, quindi non avevo questo problema, però il fatto che a me piacessero anche crescendo e abbia continuato a mangiare nel caffè latte la mattina non significa che tu ci possa fare una strategia, ok? Perché il brand ha quel significato, si rivolge alle mamme, si rivolge agli adulti ed è i biscotti specifici per tuo figlio. Il quarto motivo per il quale fai un danno molto grosso, la nocciola con le gocce di cioccolato e non avete altro, è che se plasmon si rivolge alle mamme e in un modo o nell'altro significa biscotto per i bambini, quindi nella testa delle persone significa biscotto con le materie prime e migliori, più di qualità, più leggero, più digeribile. Non è vero niente, però nella testa della mamma se lo compra questa roba qua che è più leggero, più soffice, più digeribile. Se tu gli vendi e gli dici con la tua testa, allora dirgli, ah guarda, allora facciamo adesso anche il plasmon per i grandi, automaticamente stai danneggiando il prodotto originale, la mamma dice, cazzo questi biscotti li fanno per tutti, in realtà è più o meno lo stesso biscotto, vuoi vedere che poi i plasmon per il mio bambino non sono così buoni, non sono così specifici, non sono così digeribili, non sono così particolarmente buoni per il mio figlio, quindi non fate nient'altro che aver creato una bella estensione di merda di linea, nessuno comprerà i biscotti plasmon dei grandi tendenzialmente e in più state rischiando fortemente, se non li togliete al mercato, all'estate della luce, di danneggiare la percezione del brand originale, quindi dei biscotti più teneri, più soffici, più digeribili per i bambini piccoli, quindi complimenti perché ci vuole veramente una laurea, ci vuole l'NBA e la Bocconi per fare una puttana del genere, sicuramente è qualcuno che arriva da là, questo deve essere uscito dalla Bocconi, dalla Cattolica, dalla Lui, perché per avere un'idea così geniale te devi essere uscito dalla dentro, perché se te sei come Jobs, come me che abbiamo la terza media, una cazzata del genere, non ti viene in mente, perché se te hai la terza media, una puttanata del genere, te in mente non ti viene, tu devi avere un MBA in una delle due o tre facoltà più importanti nel mondo e in Italia, perché se no una cazzata del genere a te non ti viene in mente di farla, è veramente impossibile. Allora ragazzi, il nostro passaggio ci porta, io vi voglio quindi riassumere in tre tipi diversi le estensioni di linea, che sono quelle che abbiamo trattato, quindi ve lo faccio come riassunto. Allora, punto numero uno, ci sono le estensioni di linea che danneggiano direttamente il posizionamento del prodotto originale, abbiamo appena visto Plasma, abbiamo visto Coca-Cola, abbiamo visto il Gatorade biologico, sono alcune estensioni di linea che vanno a danneggiare direttamente il prodotto originale, questo è un problema. Poi quella invece è le estensioni di linea che danneggiano indirettamente il posizionamento del prodotto originale, qui magari volendo essere molto fini, facciamo così, dividiamola per comodità didattica, ok? Allora, danneggiano direttamente il posizionamento del prodotto originale, Coca-Zero, perché? Perché la Coca-Zero dice in maniera proprio esplicita, ok? Guardate la differenza che voglio fare, voglio essere un po' più preciso di come stavo facendo. Coca-Zero, Coca-Life in maniera esplicita dicono, la Coca-Cola fa ingrassare e la Coca-Cola, gli zuccheri della Coca-Cola fanno male, ok? Il plasmon per adulti invece danneggia indirettamente il posizionamento del prodotto originale, perché non dice in realtà il plasmon fa male, ok? O il plasmon fa ingrassare, dice in realtà non sono più così convinto che i prodotti plasmon siano specifici per i bambini, siano veramente adatti per i bambini, quindi lo danneggia, non fa un'affermazione forte in tal senso, però in maniera implicita danneggia indirettamente quel tipo di posizionamento del prodotto originale. Quindi questo è per farvi un paragone preciso con gli esempi che abbiamo fatto questa mattina e sono convinto che si capisce. Pausa 5 minuti, no ragazzi, fra 5 minuti abbiamo finito, ok? Allora, quella che non danneggia il prodotto originale ma non ha senso perché non c'è nessun vero motivo per lanciare un prodotto con quel brand già noto, peraltro. Abbiamo fatto gli esempi dell'orologio della Maserati, degli occhiali della Porsche, che lì non è merchandising, anzi questi li vogliono vendere quella roba lì, ok? Quindi nel momento in cui la vedete, se tu vedi gli orologi Maserati, io non compro più la Maserati, ma no, non danneggia, se tu fai gli occhiali della Porsche, io non compro più la Porsche, ma no, ma certo che non danneggia le vendite dell'auto, ma ci mancherebbe, ma è semplicemente un'estensione di linea che non danneggia il prodotto originale ma non aiuta nemmeno la vendita del prodotto che stai cercando di fare, creati un brand nuovo, semplicemente non ha senso, quindi sono, poi ce ne sono altri, ragazzi, però le tre macro categorie che dovete imparare a riconoscere quando state cercando di capire estensione di linea o no è, uno, danneggia direttamente il posizionamento del prodotto originale, sì o no, due, danneggia indirettamente il posizionamento del prodotto originale, sì o no, ok? Tre, quella che non danneggia il prodotto originale ma non ha senso perché non c'è nessun vero motivo per lanciarlo, ok? Quindi quando state parlando per esempio di Apple o state parlando di Disney, ok? Danneggia indirettamente, cioè il fatto che Steve Jobs abbia fatto l'iPad, danneggia il fatto che l'iPhone sia il primo smartphone figo con il touchscreen, no, cosa c'entra? Perché Apple significa il device tecnologico di fascia alta, ok? Così come quando la gente guarda me e non ci salta fuori, ok? Perché non capisce che c'è un brand che è Frank Merenda che è superiore ai brand sotto, che sotto ci sono i vari brand, ok? C'è Venditore Vincente per esempio, c'è Marketing Merenda, ok? C'è un'altra cosa, ok? Perché è il brand sopra che può creare il family brand. Io come Steve Jobs, cioè la gente conosce me, non sono mica un rappresentante cazzo, ok? Quindi certo che c'è il corso Venditore Vincente perché conosce me come esperto di business per tutta quella parte che è legata all'acquisizione di clienti. Quindi da, io sono allievo di Orris, cazzo, sono allievo di Dan Kennedy, allievo privato, cioè loro vengono a casa mia, io vado a casa loro da anni, ok? Sono allievo di Jay Abram, io in Italia in area business, cioè quando si parla di da come si individua, si crea, si scava, si trova e si chiude il contratto con un cliente, la gente guarda me come mio brand sopra, quindi sotto, io posso fare su tutti i family brand che voglio e che abbiano un senso. Se io parlo di direct marketing, non è che se parlo di copywriting e il linguaggio macchina del direct marketing, non è che io non ne posso parlare. E poi è lo storico, quindi quanto è credibile quello che tu dici, quanto è legato, cioè la gente, io ho creato un impero scrivendo, non è che la gente non può credere questa cosa, non è che la gente dice a Dan Kennedy, no Dan Kennedy, io al tuo corso i copywriting non vengono, non vengono perché tu sei, la prima cosa che hai fatto è stato il corso che si chiama Magneti, di marketing, parla di direct marketing, di copywriting ci saranno veri esperti, e invece no, perché Dan Kennedy è anche il massimo esperto mondiale di copywriting, quindi la gente è veramente scollegata col cervello perché non capisce il concetto di family brand che fa da, non tutti possono usarlo, non tutte le aziende possono usarlo, ma è un concetto che è molto 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 importante, quindi cominciate ragazzi a lavorarci su questa cosa perché è importante. Quindi ragazzi ci salutiamo qua, io spero che questo web è durato più di un'ora, adesso che ora abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'ora e un quarto quasi, spero che vi sia stato d'aiuto, vi ricordo che dal 3 al 6 novembre siamo a Rimini per il seminario più spettacolare che c'è sulla venta professionale in Italia, veramente straordinario, lo trovate per quei pochi che ancora non sono iscritti, i posti platinum se ne sono andati tutti, i gold mi sembra che siano esauriti o forse ce n'è ancora uno o due, provate a imbucarvi se ce la fate, il corso venditore vincente punto com, non mancate, è un summit all'anno sulla venta professionale, se non venite vuol dire che non avete voglia di imparare a vendere meglio, perché le cose che vi insegnerò quest'anno non le ho mai insegnate prima, quindi tutto il corso venditore vincente che c'è stato fino ad oggi viene considerato come materiale di base e saranno 4 giorni completamente inediti con tecniche straordinarie, completamente innovative, veramente fortissime e chi manca rimane indietro 3-4 anni, proprio veramente è un peccato, quindi ragazzi fate di tutto per esserci, corso venditore vincente punto com, grazie mille, ci salutiamo e ci vediamo al prossimo webinar, grazie ragazzi, ciao!